Non è possibile, un'altra bolletta esagerata. Paura di ricevere bollette esagerate? Vuoi risparmiare senza rinunciare al comfort? Passa ad una caldaia condensazione, un impianto in pompa di calore o un sistema ibrido e grazie ai bonus fiscali, dimezzi i tuoi consumi. Chiama subito il numero in sovraimpressione e troveremo la soluzione giusta per te. Fai come ho fatto io, per risparmiare sui consumi, scegli 3KT.